buongiorno ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare il tutte le campanelline qualora vi facesse piacere non siete obbligati ma se vi iscrivete al canale a noi fa piacere anche perché dobbiamo arrivare presto a diecimila eh stamattina eh il solo ventimuattro ore inter il riscadenziamento con optritta le varie opzioni lo stesso giornale parla anche di eventuali acquirenti che già stanno parlando eh eh per l'acquisizione dell'Inter tra le tante mette nel mezzo questa ipotesi secondo noi secondo me non è nemmeno commentabile perché è impossibile che ad oggi il CDA dell'Inter non sappia cosa accadrà e poi mancano i tempi tecnici per negoziare il rifinanziamento di scadenziario rinvii mancano proprio i tecnici i tempi tecnici per l'operatività dei processi quindi ora non puoi fare più nulla tra l'altro OCTRI ha davanti un'escursione così semplice secondo te OCTRI ragazzi molti non hanno capito che non è una onlus quindi eh questa del questa del sole ventiquattro di stamattina questa opzione eh chiamiamola così scusate ragazzi ma ancora per la voce non ci siamo questa opzione di scadenziamento per noi lascia proprio il tempo che trova andiamo ovviamente ad oggi non c'è nessun passaggio di quote e noi eh lo dimostreremo anche nella prossima live eh che faremo SOTRI non c'è nessun passaggio quote non c'è nessun passaggio che poi non sono quote l'abbiamo già detto ma sono azioni l'Inter ad oggi è totalmente cinese non c'è stato nulla di nulla in via ufficiale quindi eh l'avete visto no? L'Inter scende in campo addirittura festeggiando il capodanno cinese le scritte cinesi quindi no non è passato nulla a ancora e e e dico la verità io capisco capisco che uno affondi tutto il suo dolore su YouTube e che punti tutto su YouTube pur avendo dei riscontri insufficienti ma comprare iscritti non ti porterà nulla fidati comprare iscritti non ti porterà nulla non ti toglierà questo dolore ormai le cazzate sono troppe ci sono già quattro cinque date poi voglio stare zitto non voglio dire nulla perché potrei dire altre cose ma io non voglio infierire però io che sono l'ultimo che può dare insegnamenti di vita una cosa la posso dire che secondo me andare a lavorare e non stare tutto il giorno buttato su YouTube cercare di crearsi una famiglia avere degli obiettivi secondo me migliora la qualità della vita anche perché poi l'età passa ci vuole un attimo l'età 40 poi dopo si arriva a 50 e arrivi a 50 e si è messo peggio di 40 e non torni più indietro comunque è inutile che tu compri gli iscritti perché non ti serve a nulla perché sei crollato ormai la gente non ne può più delle tue puttanate non c'è nessun passaggio di vuote non sai nulla hai dato 47 date torniamo al calcio torniamo al calcio voglio far vedere una cosa vengi qua intervista al Corriere della Sela di Tico Sturano c'è il video c'è un video mio andate a cercarlo se non ci vedete ma chi mi segue lo sa innanzitutto Tico Sturano lo sapete uno dei miei calciatori preferiti dell'Inter ormai penso di tutti ma all'inizio non lo volevano vedere nemmeno dipinto su un muro Tico dormo 14 ore al giorno mio fratello che che fren è più forte di me se vi ricordate se vi ricordate io dopo le prime diciamo cose che il Tiram stava dimostrando dopo i primi gol dopo i primi assist ma io questo l'ho sempre detto l'ho detto anche Michele che saluto con cui mi confronto quotidianamente io ho sempre detto ragazzi l'avete visto ma è forte Ticos stava incominciando ad ingrenare ma il fenomeno in famiglia un altro il fenomeno in famiglia è che fren detto Franco Turam è lui il vero fenomeno perché per come vedo il calcio io dopo Bellingham lui sarà uno dei primi cinque centrocampisti al mondo perché che fren Turam è un animale è una roba imbarazzante e infatti quando io parlavo di Turam su YouTube non ne parlava nessuno di questo Turam come quando parlai di Zig Zee prima di Inter Bologna io parlai di Zig Zee mi arrivarono dei messaggi chiusi ma chi è questo Zig Zee quando parlai e sa io lì lo potevo capire perché così io per caso stavo seguendo quel giocatore ma perché me l'avevano detto era un caso io stessi seguendo Zig Zee e lo potevo capire ma quando ho parlato di che friend Turam su YouTube e non ne parlava nessuno su YouTube di che friend Turam io lì sono rimasto veramente spiazzato perché ho detto cazzo non lo conosce nessuno mentre ora lo conoscono tutti che friend Turam ad oggi ed uno dei centrocampisti più forti del mondo te lo dico io questo lui se tu lo prendi e tu lo metti nell'Inter questo fa la differenza da subito perché sa fare tutto esplosivo tecnica fisico personalità tiro e porta inserimenti fase difensiva qualsiasi cosa lui la sa a fare ed è una mezzala non con i controfiocchi di più ma può giocare tranquillamente anche play lui a centro campo può giocare ovunque anche se per sviluppare quella falcata che ha mezzala fa paura perché lui mezzala fa paura lui diventerebbe il centro a pista più forte lo dico io della serie A pur avendo noi barella e tanti altri centrocampisti forti che friend Turam nel giro di due anni diventerebbe il centro a pista più forte della serie A non per nulla lo dicono anche in famiglia perché io dissi sta cosa perché poi dopo cominciai a vederlo giocare perché l'ho visto giocare tante volte franco Turam conoscevo bene Ticus ma conosco benissimo anche che friend Turam e vedendolo giocare ragazzi ti emozioni perché questo è veramente fuori forte ma anche in famiglia dicono attenzione non è che lo diceva Giuse anche in famiglia dicono che il fenomeno il fuori classe della famiglia Turam è che friend non è Ticus e questo dopo tutto quello che ha fatto tram oggi all'Inter ti fa capire di quanto possa essere forte questo ragazzo perché continuano a dire che il fenomeno è famiglia e che è che friend non è Ticus questo ti fa capire di quanto è forte quel ragazzo ma è veramente tanto forte e io spero che l'Inter faccia di tutto per portarselo a casa io sacrificerei io sacrificerei anche un titolare perché friend Turam te lo dico sinceramente senza nessun problema perché se lo conoscete poco andate a documentarmi anche se dai video ti rendi conto poco i video servono fino a un certo punto scusate la voce dovete guardare le partite guardate qualche partita intera delle fasi che fa delle doppie fasi dei recuperi di quando si spinge in avanti è un fuori classe questo ragazzo e io spero visto è stato a San Siro visto che comunque anche lo stesso Lilian Turam è rimasto contento dell'ambiente io spero che l'Inter lo porti a casa perché te lo ripeto ora qualcuno di voi ma anzi secondo me più di uno penserà giusto e sta dicendo una cazzata dopo Bellingham questo sarà uno dei cinque centropisti più forti al mondo ciao ciao